Le domande che più frequentemente pongono i ragazzi nel corso di questo incontro riguardano un po' tutte le dipendenze, che non sono dipendenze in quanto tali, ma dei veri e propri comportamenti normalizzati nella vita di tutti i giorni. Oggi noi sappiamo che esiste un effetto anche di incremento del rischio per quanto riguarda la coesistenza di più fattori di rischio legati all'uso di sostanze. La prima tra tutti voglio dire la nicotina, quindi il fumo di sigarette insieme all'alcol, ma molto più frequentemente la cannabis, quindi le cosiddette canne come le chiamano loro. Si tratta di sostanze che hanno un effetto praticamente identico, anche isolatamente, che in commistione con l'alcol trovano una massima espressione. Ho mostrato le immagini, che sono quelle appunto di un cervello che è esaminato attraverso delle tecniche avanzate, diciamo di tomografia, consentono di vedere come il cervello possa danneggiarsi fisicamente, quindi perdere le cellule nervose in funzione dell'uso di alcol, oppure di cannabis o di droghe in genere, ma anche della stessa nicotina. È chiaro che l'uso combinato di tutte queste sostanze ha un effetto ancora più dannoso nel periodo che va dai 12 ai 25 anni, quando si matura la capacità di metabolizzare l'alcol, ma quando si matura anche il sistema limbico e la corteccia prefrontale, che è quella che fa razionali i ragazzi. Quindi oggi come oggi fare prevenzione nelle scuole significa focalizzare contestualmente su questo tipo di, tra virgolette, dipendenze che non sono delle vere e proprie dipendenze, ma che espongono i ragazzi a un rischio e che espongono anche l'abbassamento della percezione del rischio con, diciamo, delle azioni che vanno anche oltre l'ordinario, tipo ad esempio giocare molto su internet, giocare molto attraverso gli smartphone e quindi creare le basi per quelle che sono poi le dipendenze comportamentali che trovano la stessa base fisiopatologica all'interno del cervello, attraverso il meccanismo della gratificazione. Loro mi chiedono perché sono attratti da questi tipi di dipendenze, perché chiaramente provare piacere per l'alcol o per la nicotina o per il gioco o per lo shopping è la stessa medesima cosa in termini di meccanismo di gratificazione e di piacere che richiede un costante incremento delle quantità o del tempo da dedicare a queste pratiche. Quindi fare molta attenzione, soprattutto in casa, ma anche, voglio dire, nei contesti di aggregazione giovanile, a tutti quelli che possono essere fenomeni che chiaramente esasperano un uso, tra virgolette, normale e che invece caratterizzano una personalità e soprattutto un ragazzo che può fare uso in questa maniera patologica per sfuggire ad un disagio oppure semplicemente per sfuggire alla vita, a una vita che magari percepisce molto difficile perché è caratterizzata da pressioni scolastiche, da episodi di bullismo e da altre problematiche che sono tipiche di questa età adolescenziale. Di solito la persona più sensibile e più vulnerabile è quella sempre un po' più introversa, anche un po' più isolata dal gruppo, isolata perché è lui che si isola oppure perché viene escluso dal gruppo. Bisogna considerare che l'alcol da questo punto di vista, ad esempio, nei giovani può essere percepito come la sostanza chiave per superare queste disinibizioni. Sappiamo che incrementa la loquacità, disinibisce, favorisce le relazioni interpersonali, solo che per arrivare a quegli effetti, alla volta successiva in cui si è sperimentato con un bicchiere queste sensazioni, l'organismo ne richiede due di bicchieri, poi quattro e poi otto. Per cui se una persona fa uso della sostanza per ottenere quegli effetti e non consuma la sostanza per il piacere legato magari a sorseggiare una sostanza psicoattiva sul cervello, allora il problema diventa un problema di carattere ovviamente anche clinico, patologico, e quindi può aprire molto più facilmente a quella che è la strada non del consumo a rischio ma della vera e propria dipendenza. Quindi guardare sempre con attenzione i comportamenti dei propri figli è importante. Non occorre chiaramente essere paternalistici, ma trascorrere molte ore nei luoghi di aggregazione giovanile non monitorati, non sapere in quali piazze virtuali i nostri giovani si aggirano anche su Facebook, su social network, o non avere idea di quante sono le ore che non bisogna mai superare perché il proprio figlio non diventi un dipendente da internet oppure dal gaming, dai giochi e da quant'altro, è nelle responsabilità della famiglia, chiaramente dei genitori, che devono recuperare il carattere proprio formale, di controllo formale anche dei luoghi frequentati, cosa che esisteva tanti anni fa e che era una risorsa della società che oggi bisognerebbe effettivamente rivalorizzare.